A poche ore dall'operazione Nebrodi arriva la sospensione dalla carica del sindaco di Tortorici Emanuele Galatisardo. Lo ha disposto il prefetto di Messina in seguito al provvedimento degli arresti domiciliari che ha colpito il primo cittadino ricense. Il sindaco è stato coinvolto nell'ambito della grande offensiva dello Stato alla criminalità nebroidea per fatti esterni a ruolo di amministratore. Il primo cittadino eletto alle elezioni amministrative dello scorso aprile è indagato per associazione a delinquere e truffa nella qualità di operatore di uno dei CAA per la gestione di alcune pratiche per l'ottenimento dei contributi della GEA sino all'anno 2017. Sulla vicenda intervengono con una nota i rappresentanti dell'amministrazione comunale oricense. Il vice sindaco, gli assessori della giunta di Tortorici e il gruppo di maggioranza Tutto ha presa la notizia dell'arresto del sindaco per fatti estranei alla gestione amministrativa. Nel dichiarare la massima fiducia nell'operato delle forze dell'ordine della magistratura si dicono certi che Emanuele Galatisardo sarà in grado di chiarire presto la propria posizione fornendo agli inquirenti ogni più utile elemento in sua difesa. Fino ad allora la continuità amministrativa sarà garantita dagli amministratori in carica secondo legge seguendo il percorso indicato agli elettori in campagna elettorale e condiviso dalla maggioranza della collettività. Nell'inchiesta sono finiti anche altri amministratori. Il prefetto di Catania ha disposto la sospensione dalla carica di consigliere del comune di Randazzo Vincenzo Ceraulo finito sempre ai domiciliari nell'ambito della maxi operazione che ha visto all'alba di ieri eseguire su tutto il territorio dei Nebrodi ben 94 misure cautelari. Il consigliere deve rispondere dei reati in concorso di truffa per il conseguimento di erocazioni pubbliche con l'aggravante del 416 bis nonché di falsità ideologica aggravata in atti pubblici in concorso commesso dal pubblico ufficiale. L'operazione Nebrodi portata a termine ieri con l'ausilio di mille uomini della Guardia di Finanza e dei Carabinieri rappresenta la più grande offensiva dello Stato a Cosa Nostra nella provincia di Messina dai tempi dell'inchiesta Mare Nostrum. 48 le misure restrittive in carcere e 46 agli arresti domiciliari tra i destinatari del provvedimento oltre ai vertici e agli affiliati del sodalizio criminale anche imprenditori e pubblici amministratori sequestrate 151 imprese, conti correnti, rapporti finanziari e vari cespiti. Indagati a vario titolo avrebbero permesso alla criminalità di ottenere illecite percezioni di ingenti contributi comunitari concessi dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. In particolare è stata accertata a partire dal 2013 l'illecita percezione di erogazioni pubbliche per oltre 10 milioni di euro con il coinvolgimento in tale attività di oltre 150 imprese agricole, tutte direttamente o indirettamente riconducibile a due famiglie mafiose, quella dei Batanesi, operante nella zona di Tortorici e in gran parte del territorio della provincia di Messina, e di una costola del clan dei Bontempo Scavo.